Ciao e benvenuto su Digital Toolcase, in questo video voglio tornare sull'argomento chat GPT disabilitato per l'Italia e farti vedere un po' di alternative a chat GPT. Intanto, per cominciare, se ti va, metti like a questo video e iscriviti al canale. Detto questo, io non voglio entrare nel merito delle decisioni dell'authority per la privacy, sono cose abbastanza complicate, non so se ci vorrà poco o tanto per sistemare le cose, perché l'authority parli di problemi proprio sulla raccolta dei dati che vanno a fare da allenamento, da training a chat GPT. Non lo so, non so se ad OpenAI basterà inserire insomma delle clausole o qualcosa del genere, staremo a vedere. Ad ogni modo, oggi è cambiato il messaggio che compare, è molto più dettagliato ed è simile all'email che dovrebbe esserti arrivata se avevi un account con chat GPT. Ad ogni modo, con un browser normale chat GPT non è utilizzabile, rimane utilizzabile con il browser Opera, perché Opera ha all'interno una sua VPN, se vuoi usarlo devi comunque assicurarti che la VPN sia attiva e che sia settata su un IP non italiano. E questo è un modo per ora, quantomeno per utilizzare ancora chat GPT. Tutti gli utenti plus a pagamento di chat GPT riceveranno un rimborso per l'abbonamento di marzo e qualcuno in rete dice anche che verrà disabilitato l'account. Io non credo, non credo che ad OpenAI convenga eliminare gli account. Staremo comunque a vedere. Puoi comunque utilizzare le API. Per utilizzare le API di chat GPT 3.5 ti basta un account di OpenAI. Per utilizzare invece GPT 4 con le API o comunque con il Playground devi fare richiesta. C'è una pagina, se la cerchi proprio sul sito di OpenAI, per entrare nella waitlist per le API di GPT 4 e dopo qualche giorno dovrebbero darti l'accesso senza problemi. E in alcuni casi, secondo me, conviene addirittura utilizzare questa parte, soprattutto se eri un utente a pagamento e non utilizzavi più di tanto chat GPT, perché comunque può darsi che utilizzando le API, se non scrivi molto, vai a pagare anche meno. Semplicemente utilizzando le API, che non utilizzando proprio i 20 dollari al mese di chat GPT. E fin qui siamo nell'ambito strettamente di OpenAI e chat GPT. Ma quali sono le alternative gratis e a pagamento per utilizzare chat GPT o comunque qualcosa di molto simile o che utilizza lo stesso modello linguistico? Li vediamo subito. La prima e più ovvia alternativa è ovviamente Bing. Bing utilizza chat GPT come back-end, credo per alcuni task il 3.5, per altri il 4. Credo che adesso sia abilitato per tutti. Comunque, se usi il browser, ad esempio Edge, quello già inserito in Windows, dovresti avere adesso anche questa B in alto e ti si apre la barra laterale dove puoi utilizzare la chat anche da qui e quindi chiedere qualsiasi cosa. Proviamo a chiedere, scrivi l'intro per un articolo su come cucinare la pizza e proviamo a vedere se chat GPT tramite Bing ci risponde. assolutamente sì e quindi è un modo per utilizzare chat GPT qui all'interno. Puoi andare su composizione e creare altri tipi di testo oppure puoi utilizzarla da qui cliccando su chat e avrai quest'altra interfaccia. Questa funziona anche se non utilizzi Edge naturalmente e puoi continuare ad utilizzarla in questo modo. Ci sono delle differenze ovviamente. Hai il vantaggio che avrai delle fonti in base a quello che scrive. Hai lo svantaggio che magari alcune cose non le puoi fare. Credo ad esempio che il codice qui non lo possa scrivere. Proviamo. Crea un codice HTML per l'embed di un'immagine. Non so se la chat all'interno di Bing lo faccia oppure no. Lo vediamo subito. Ok in qualche modo lo fa magari non mi dà uno script intero mi dà però il codice HTML quindi comunque parecchi dei task che facevi con chat GPT nella versione free li puoi fare tranquillamente anche all'interno di Bing. Ripeto magari non riuscirai a fare tutto 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 ma è sicuramente la prima alternativa gratuita. Un'altra alternativa gratuita che magari non conosci è il motore di ricerca you.com ti basta andare su you.com credo tu debba essere iscritto per utilizzare tutte le funzionalità ma hanno anche loro introdotto una parte di chat. Vedi introducing you chat talk to it here ti basta cliccare su questo tasto e ti ritrovi all'interno di una chat simile a quella inclusa in Bing. Proviamo a chiedere le stesse cose anche qui. Voglio l'intro per un articolo su come cucinare la pizza e teoricamente mi dovrebbe scrivere senza problemi un'introduzione. Proviamo con il codice anche se per il codice qui in realtà c'è una sezione a parte ma proviamo comunque. Anche qui chiedo il codice HTML per l'embed di un'immagine. Vediamo se me lo genera. Ok mi dà anche la fonte che è v3 schools però all'interno di you se io vado sulla pagina principale c'è anche questo you code che serve proprio invece per cercare o generare dei codici. Quindi you.com è un'altra alternativa gratuita forse anche qui non riuscirai a fare esattamente tutto con lo stesso workflow ma è un'altra ottima alternativa gratis. Tra le alternative gratuite o meglio semi gratuite c'è questo sito si chiama po.com credo si pronunci così è scritto poe.com se non erro è stato creato da cuora se non sbaglio ad ogni modo ti dà la possibilità di usare alcune cose gratuitamente con dei limiti e poi hai anche dei piani a pagamento ti dà la possibilità di utilizzare però non solo gpt 3.5 quindi chat gpt oppure gpt 4 ma anche altri modelli di intelligenza artificiale di cui si parla abbastanza uno è cloud per esempio come si usa po devi ovviamente iscriverti al sito e poi sulla sinistra puoi scegliere quale algoritmo utilizzare in questo caso chat gpt quindi è come utilizzare il normale chat gpt suppongo ci siano appunto dei limiti per quanto riguarda l'utilizzo gratuito c'è gpt 4 in questo caso c'è solo un messaggio al giorno gratuito poi c'è cloud c'è cloud instant c'è dragonfly puoi iscriverti gratuitamente e provare tu stesso anche poe.com e come vedi se vuoi ad esempio iscriverti a pagamento e usare gpt 4 lo puoi fare al momento soltanto dall'app iphone o ipad stanno implementando gli abbonamenti a pagamento anche dal web ma al momento non sono disponibili quantomeno per gpt 4 poi può essere interessante perché ti dà modo di provare anche altri algoritmi cloud è comunque limitato a tre messaggi al giorno se non ricordo male e sage invece pare sia gratuito non vedo limiti nemmeno su chat gpt in realtà non so se a un certo punto ne venga limitato l'utilizzo passiamo invece alle alternative a pagamento qui si tratta di tool ovviamente professionali quindi un conto è se con chat gpt ci vuoi solo giocare puoi farlo con bingo con uchat un conto se lo usi per lavoro per generare invece qualcosa che poi ti porta anche dei soldi cbi è secondo me una delle migliori alternative in assoluto perché è ottimizzato sull'utilizzo di gpt 3.5 gpt 4 ma usa anche altri algoritmi ovviamente è a pagamento e questi sono i prezzi c'è un piano light diciamo così da 20 dollari al mese che è lo stesso costo di gpt plus di chat gpt plus c'è però un limite credo di 100.000 parole al mese altrimenti questo è il limitato con anche molte più opzioni da 42 dollari al mese ma ti faccio vedere all'interno ricordandoti che trovi ovviamente i link in descrizione questo è cibi questa è l'interfaccia dove puoi generare un documento non ti farò vedere tutte le opzioni ma ti voglio far vedere che puoi comunque utilizzarlo un po come se fosse chat gpt cliccando su prompt puoi inserire il prompt funziona molto meglio per l'inglese ma con i prompt assolutamente funziona anche in italiano ad esempio scrivi l'introduzione per un articolo su come cucinare la pizza do il comando e nel giro di qualche secondo dovrei avere lo stesso effetto insomma che avrei con chat gpt non ha un'interfaccia chat e secondo me va anche bene perché io non ho mai amato tanto l'interfaccia chat per generare ad esempio degli articoli di blog è meglio utilizzare i documenti è meglio utilizzare un software che ti possa far interagire con il contenuto in qualsiasi punto cibi anche molto comodo perché ad esempio mi è scritto un'introduzione che può anche essere migliorata ripeto in italiano magari c'è qualche problemino in più perché è un tool fatto espressamente per la lingua inglese comunque mi basta ad esempio cliccare su continue e cibi continua a scrivere però ecco come vedi scrive in inglese perché il comando continue funziona con degli algoritmi diversi rispetto a gpt di open ai e quindi non scrive in italiano utilizzando questi tasti ma scrive in italiano invece utilizzando i prompt e quindi può essere una soluzione magari non per tutti ma per qualcuno assolutamente sì posso comunque andare a capo inserire un altro prompt e chiedere magari di espandere il precedente paragrafo quindi utilizzando i prompt posso né più né meno utilizzarlo come vedi in questo caso mi ha rigenerato dall'inizio tutto l'intro ma molto 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 più lungo vediamo come se la cava cibi con il codice invece stesso prompt ok mi ha generato un codice in questa maniera partendo addirittura dal head della pagina al viewport e tutto il resto con il codice html magari non ai livelli di chat gpt ma non è espressamente fatto per questo cibi è un tool con anche delle funzioni molto avanzate con una memory con un prompt vault dove puoi salvarti i tuoi prompt preferiti ottimizzarli utilizzarli tutte le volte che vuoi con una prompt history con tante altre opzioni ho fatto una recensione ti lascerò ovviamente in descrizione il link e trovi il link per provare cibi se non ricordo male 5000 parole per provarlo gratuitamente te lo consiglio è uno dei miei tool preferiti soprattutto se tendi a scrivere in inglese non avrai nessun problema anzi è assolutamente ottimo il prossimo è phrase questo è un tool che io uso da più di un anno a questa parte è suddiviso in due parti una parte per l'ottimizzazione seo e una parte di scrittura con l'intelligenza artificiale costa ovviamente di più perché in questo caso ti consiglierei questo piano basic da 45 dollari al mese ma poi ti serve anche il pro addon da 35 dollari al mese però phrase è specifico per chi vuole creare degli articoli orientati alla seo ottimizzati per la seo dove si può fare ricerca della serp dei competitors e molto altro però c'è qui nella sezione ai right anche una chat che funziona più o meno come chat gpt utilizza gpt 3.5 e puoi chiedere le stesse cose non il codice però che in questo caso non funziona se però la tua esigenza è quella di creare degli articoli di blog ottimizzati per la seo e quindi con più probabilità di aumentare il ranking e dove puoi monitorare insomma quello che scrivono i competitor, estrapolare gli headings, le people also ask, le statistiche, le news del momento o argomenti correlati con wikipedia phrase rimane il mio tool preferito proprio per quell'uso specifico anche qui ho fatto ovviamente più di un video per quanto riguarda phrase e trovi i link in descrizione compreso il link per provarlo in questo caso puoi provarlo per cinque giorni con un dollaro Jasper non può assolutamente mancare in questa lista anche Jasper ha un suo costo ed è diciamo di 59 dollari al mese per 50.000 parole ma se lo vuoi usare con la chat beh non valgono queste 50.000 parole nel senso che ad oggi credo sia ancora illimitata la chat devi comunque pagare questi 59 dollari al mese e anche qui te lo consiglio se effettivamente lo usi per questioni lavorative e non per giocarci c'è Jasper chat all'interno non è diciamo proprio a livello di chat gpt però anche qui puoi creare molte cose e includere anche la ricerca su google per avere le risposte e Jasper chat ti risponderà anche con delle fonti facciamo subito una prova solito prompt e vediamo cosa risponde Jasper chat Jasper chat ha il vantaggio di scrivere in maniera molto più umana rispetto a chat gpt non viene solitamente rilevato o viene rilevato come contenuto di intelligenza artificiale in una percentuale molto più bassa ecco qui il mio intro l'introduzione con anche alcune sources quindi alcune fonti in inglese però perché va sempre a cercare le fonti in inglese questo perché non ho attivato la mia geolocalizzazione quindi di default si prende google.com vediamo come se la cava con il codice codice html per l'embed di un'immagine chiediamo a Jasper chat senza attivare la ricerca di google anche in questo caso mi dà un qualcosa di molto breve semplicemente la parte proprio del della image in html comunque anche qui qualcosa è possibile fare ed è un'altra buona alternativa ovviamente a pagamento e quindi ovviamente per chi effettivamente lo usa per lavoro questo è un altro tool di cui magari non hai mai sentito parlare ho fatto una recensione sul canale ma da lì si è evoluto ulteriormente text builder tra l'altro è molto cheap molto poco costoso rispetto ad altri tool vediamo se trovo la parte relativa ai prezzi eccoli qua ad esempio per 100.000 parole al mese costa solo 19 dollari quindi rispetto a Jasper ad esempio è molto meno costoso c'è anche un lifetime plan con però delle limitazioni c'è ovviamente il link in descrizione ti lascerò anche il link al video della review che ho fatto e text builder è abbastanza completo puoi farci tutto quello che fai con Jasper ed ora c'è anche questa parte di Turbo GPT dove puoi utilizzare proprio l'algoritmo di intelligenza artificiale GPT 3.5 e 4 non mi ricordo dove si seleziona ma viene implementato per i tuoi output anche qui hai una prova gratuita se vuoi provarlo è uno di quelli che ti consiglio uno tra i meno famosi ma lo sviluppatore di questo tool è molto dedito a questo progetto ecco questo sta usando ad esempio GPT 3.5 dicevo è molto dedito a questo progetto e sta facendo delle cose interessanti che verranno rilasciate tra pochi giorni c'è anche un auto writer che ti permette di creare un articolo intero con pochi click scegliendo tra diversi template e diversi modelli di intelligenza artificiale questo usa da vinci 003 c'è anche il suo proprietario che è un algoritmo allenato appositamente dai un occhio a text builder perché ne potrebbe valere la pena di cat tab ne ho parlato parecchie volte se guardi sul mio canale anche qui un tool a pagamento naturalmente per chi lo utilizza per lavoro ha dei prezzi interessanti c'è credo ancora il lifetime deal su absumo ha comunque dei prezzi interessanti perché ad esempio il piano con parole illimitate costa 25 dollari al mese o ancora meno se lo paghi annualmente cat tab non ha all'interno per il momento una parte di chat dicevano che l'avrebbero implementata ma ancora non c'è però cat tab è in grado di scrivere articoli o con pochi click oppure sezione per sezione inserendo dei fatti tra virgolette verificati è uno dei tool appunto che si vanta di scrivere articoli fact checked che vanno sempre comunque verificati ma cosa fa? va a cercare online nella SERP gli argomenti e poi ovviamente scrive gli articoli un altro tool che ti potrebbe interessare si chiama Neuroflash anche in questo caso ho fatto una review sul canale i prezzi di Neuroflash sono questi li vediamo subito ci sono diversi piani c'è il piano free addirittura con 2000 parole al mese c'è il piano basic, il power, il premium puoi vedere i prezzi cliccando ovviamente poi sul link che trovi in descrizione questo tool è europeo, credo sia tedesco vantano di insomma essere i primi ad introdurre GPT-4 in Europa vantano il fatto di scrivere bene anche in lingue non inglesi quando l'ho provato, quando ho fatto la review c'era qualche problemino con i comandi in italiano però hanno adesso inserito anche una parte chat come vedi qui nella dashboard è possibile iniziare una chat ad esempio proviamo il solito prompt e vediamo cosa succede si apre un documento e in questa barra laterale si apre la sezione chat che funziona anche in italiano proviamo il codice, non so se lo genera solito prompt, vediamo se ce lo scrive oppure no in teoria utilizza GPT-4 o GPT-3.5 quindi lo dovrebbe fare abbiamo il nostro solito codice HTML dell'immagine qui è possibile definire anche alcune personalità nell'output e utilizzare anche alcuni templates specifici Neuroflash non è male, non è assolutamente male ti consiglio di provarlo anche perché ha un piano free che ti permette di provare qualcosina e ancora una volta trovi ovviamente il link in descrizione sotto a chi tocca parliamo anche di Hypotenuse AI anche in questo caso c'è la review sul mio canale anche loro hanno introdotto GPT-4 in questo caso vediamo subito i prezzi per Hypotenuse AI con il piano i mensili siamo sui 59 dollari al mese al livello di Jasper però hai un po' più di parole oppure c'è il piano più basso che ha ovviamente delle limitazioni con 29 dollari al mese all'interno di Hypotenuse AI trovi questa nuova Hypotenuse AI siamo più o meno nella situazione degli altri quindi l'algoritmo, il modello di intelligenza artificiale utilizzato è sempre GPT quindi GPT 3.5 o GPT 4 così dichiarano e puoi anche qui utilizzarlo con la chat non so che limiti abbia la chat se vada a scalare i crediti al momento credo di no però anche in questo caso trovi il link in descrizione puoi provarlo gratuitamente e quindi farti un'idea se Hypotenuse AI ti può piacere Hypotenuse non è male nella creazione degli articoli con un click perché è molto 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 ottimizzato inserisce degli argomenti fattuali va a cercare nella SERP è un tool in Italia forse non famosissimo ma secondo me vale la pena provarlo come bonus te ne segnalo altri due che però non ho mai provato personalmente uno è Writesonic hanno una parte chat che funziona abbastanza bene e Koala Writer questo è veramente nuovo nuovo anche qui c'è una sezione chat all'interno che utilizza 3.5 turbo GPT il prezzo in questo caso è questo quindi da 9 dollari al mese fino a 49 in base alle esigenze ci sono dei limiti ovviamente di parole mensili utilizzabili e sono via altri due tra i millemila che puoi trovare online e questo è tutto per questo video con alcune alternative sia gratis che a pagamento a chat GPT io personalmente ho sempre apprezzato di più i tool che mi danno la possibilità di lavorare su documento quindi è da più di un anno che utilizzo Jasper utilizzo Phrase sì ebbene sì ho pagato da più di un anno l'abbonamento mensile di Jasper pago Phrase puntualmente non la parte SEO perché ho la fortuna di aver preso il Lifetime Deal ma la parte del Pro Add-on la pago ogni mese pago Chibi ogni mese e quindi se utilizzi questi tool per lavoro ci sta che li utilizzi anche a pagamento ripeto se invece utilizzi per diciamo delle cose saltuarie o per giocare tra virgolette ti possono andare bene le alternative gratuite sperando insomma che la situazione con chat GPT e OpenAI si risolva presto direi che è tutto per questo video spero ti sia stato utile se è così clicca su like iscriviti al canale lascia magari un commento se hai qualche altro tool da suggerire o se hai qualche domanda in particolare grazie per essere arrivato fino a qui e naturalmente ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti